che oggi allerta rossa per il maltempo in Emilia-Romagna, il rischio è quello di frane della rottura degli argini, dei fiumi, della Reno e dei suoi affluenti. Allora andiamo a vedere come si sta aprendo questa giornata nei territori già colpiti dalla violenta ondata del 2 maggio scorso che, lo ricordiamo, ha provocato anche due vittime. Buongiorno al prefetto di Ravenna, Castrese Ederosa, grazie per essere con noi questa mattina, prefetto. Sì, buongiorno anche a lei, buongiorno. Allora lei chiaramente ha il quadro completo della situazione per il suo territorio, ci dica come è andata questa notte e come si apre la mattinata nella Ravennate. Guardi, temevamo molto questa notte, fortunatamente la perturbazione si è spostata verso nord, le precipitazioni si sono un po' affievolite e l'allarme idrometrica che temeva molto è stato scongiurato, quindi fortunatamente una buona notte. Ecco, andiamo sulle situazioni di maggior rischio, lo dicevamo, i fiumi e la rischio frane. Sì, sento, noi abbiamo tutto il territorio collinare del Ravennate che è devastato, insomma, da Conselice a caso Lavalsenio, abbiamo avuto oltre 72 movimenti franusi. Poi tutta la zona di Faenza, Bagnacavallo, la stessa località di Boncaccini, appunto nella località di Bagnacavallo è stata esondata e abbiamo avuto quattro rotture arginali importanti, il Lamone che appunto è esondato a Boncellino, poi abbiamo avuto a Faenza tra la confluenza del Marzeno con Lamone altre esondazioni, il Sillaro che appunto ha avuto rotture importanti e ha esondato nella località di Conselice. Quindi una situazione molto critica che stiamo monitorando con tutte le forze in campo. Ecco, Prefetto, per quanto riguarda le scuole invece ci sono territori della regione, ovviamente ci parla del Ravennate che resteranno chiuse. No, oggi no, si è valutato ieri, ieri noi siamo come le sa col centro coordinamento soccorso in prefettura attivato già dal 2 maggio, quindi in collegamento continuo con i cocco comunali, i centri operativi comunali, ieri intorno alle 20 abbiamo fatto un punto di situazione, abbiamo deciso insieme ai sindaci che oggi le scuole apriranno regolarmente, quindi non ci sono problemi per le scuole. Bene, questo è un dato importante soprattutto per i ragazzi e per le famiglie, che indicazioni si sente di dare ai cittadini? Mi sento di dire oggi sarà un po' dalle condizioni meteo che abbiamo avuto dal centro Arpae di Bologna, oggi è una giornata un po' di tregua, ma già da venerdì e il prossimo weekend la situazione ripeggiorerà di nuovo, quindi massima allerta, noi siamo mobilitati con tutto il sistema di protezione civile regionale, provinciale e comunale, con i nostri vigili del fuoco in massima forza, con uomini e mezzi sui territori, quello che mi sento dire ai cittadini, state attenti, non andate sugli argini, uscite solo se strettamente necessario, l'allarme non è affatto finito.